se ciò che hai letto ha svegliato dentro di te una risposta e la tua anima brama di ricevere ancora di più allora tu sei pronto per quanto segue ma se tu discuti ancora o ti ribelli all'apparente pretesa di autorità divina con cui qui ti si parla e il tuo intelletto ti dice che si tratta solo di un nuovo tentativo per sedurre la tua mente con scaltri suggerimenti e sottile sofistica allora tu non avrai beneficio da queste parole poiché il loro significato è finora nascosto alla tua coscienza mortale e la mia parola deve giungere a te per altre vie e sotto altre forme ed è bene se la tua personalità col suo intelletto ti spinge a discutere così e a ribellarti contro l'autorità che non sai ancora essere la mia ma sono realmente io che faccio così ribellare la tua personalità poiché essa con il suo orgoglioso senso di separazione mi è ancora necessaria sviluppare una mente e un corpo forte abbastanza da potermi esprimere perfettamente e finché tu non sia preparato a conoscermi è sua missione datale da me di discutere e ribellarsi ma dall'istante in cui riconosci la mia autorità l'imperio della personalità comincia ad essere minato i suoi giorni sono contati e tu ti volgerai sempre più a me per guida e aiuto quindi non sgomentarti seguita a leggere e forse il riconoscimento verrà sappi che puoi leggere e non leggere come vuoi ma che comunque tu faccia sono realmente io che scelgo e non tu per te che apparentemente scegli di non leggere oltre o altri piani a suo tempo tu imparerai che qualunque cosa tu faccia o ti piaccia o desideri sono io che ti conduco attraverso gli inganni e le illusioni della personalità affinché tu ti possa facilmente svegliare alla loro irrealtà e volgerti a me quale unica e sola realtà allora queste parole troveranno risposta dentro di te sì calmo e sappi io sono dio sì io sono la più intima parte di te che dimora nell'interno e aspetta e veglia non conoscendo né spazio né spazio né tempo poiché io sono l'eterno e riempio tutto lo spazio io veglio e aspetto che tu sia stanco delle tue follie delle tue vane brame ambizioni e rimpianti sapendo che tutto verrà a suo tempo allora ti volgerai a me scoraggiato vuoto e umile e mi domanderai di prendere il comando senza sapere che sempre io fui che ti condussi io sto qui dentro aspettando quietamente che ciò accada pure mentre aspettavo ero io che dirigevo la tua condotta che ispiravo tutti i tuoi pensieri tutte le tue azioni utilizzandoli e manipolandoli impersonalmente in modo da portare te e la mia altra espressione mortale al riconoscimento cosciente di me io sono stato sempre dentro di te profondamente dentro il tuo cuore io sono stato con te attraverso tutto le tue gioie i tuoi dolori i tuoi successi i tuoi errori attraverso la tua malvagità e la tua onta attraverso i delitti contro i fratelli e contro dio che tu credi di aver commesso sia che tu procedessi innanzi ti sviassi o arretrassi ero io che ti spingevo ero io che ti spingevo innanzi mostrandoti qualche bagliore di me a distanza e coi contorni confusi ero io che ti allettavo con la visione di me in qualche volto incantevole in qualche bellissimo corpo in qualche piacere inebriante o in qualche travolgente ambizione ero io che ti apparivo sotto le spoglie del peccato della debolezza dell'avidità della sofistica e ti attiravo indietro nelle fredde braccia della coscienza lasciandoti lottare nelle sue strette tenebrose finché tu risvegliato alla tua impotenza ti scuotesti disgustato e ispirato dalla nuova visione strappasti la mia maschera sì sono io che ti faccio fare tutto ciò che fai e puoi comprenderlo sono io che faccio tutto ciò che fai e tutto ciò che fa il tuo fratello poiché in te e in esso tutto ciò che è è io me stesso poiché io sono la vita sono io che animo il tuo corpo che faccio pensare la tua mente e che faccio battere il tuo cuore sono io che attiro a te il piacere o il dolore siano essi della carne dell'intelletto o delle emozioni io sono l'intimo lo spirito la causa animatrice dell'essere tuo di tutta la vita di tutte le cose viventi visibili ed invisibili e non c'è nulla che sia morto poiché io l'uno impersonale sono tutto ciò che esiste io sono infinito e sconfinato l'universo è il mio corpo tutta l'intelligenza che è in esso emana dalla mia mente tutto l'amore che vi è fluisce dal mio cuore tutta la forza che vi agisce non è che la mia volontà in azione la triplice forza che si manifesta quale tutta la sapienza tutto l'amore tutta la forza o se preferisci come luce calore ed energia ciò che mantiene tutte le forme ed è dentro e dietro tutte le espressioni e tutti gli aspetti della vita siano essi creativi coesivi o distruttivi non è che la manifestazione di me stesso nell'atto e nello stato di essere nulla può essere senza manifestare ed esprimere qualche aspetto di me che sono non solo il costruttore di tutte le forme ma colui che dimora in ciascuna di esse nel cuore di ciascuna io dimoro nel cuore dell'uomo nel cuore dell'animale nel cuore del fiore nel cuore della pietra nel cuore di ciascuno io vivo muovo e ho il mio essere e dal cuore di ciascuno io esprimo quell'aspetto di me che desidero esprimere e che si manifesta nel mondo esterno come una pietra un fiore un animale un uomo dunque che cosa esiste tranne questo grande io ma tu domandi non è dunque consentita a me nessuna individualità no non c'è nulla assolutamente nulla che non sia una parte di me dominata e retta eternamente da me l'una realtà indefinita quanto alla tua cosiddetta individualità essa non è altro che la tua personalità che cerca ancora di conservare un'esistenza separata ma ben presto tu conoscerai che non esiste individualità separata dalla mia individualità e che ogni personalità svanisce nella mia divina impersonalità presto tu raggiungerai quello stato di risveglio in cui potrai avere un varlume della mia impersonalità e allora non desiderai non desidererai più per te alcuna individualità alcuna separazione poiché avrai compreso che essa è solo e ancora un'illusione della personalità non desiderai più per te